Scandalo all'Isola dei Famosi! La verità dietro la squalifica di Benigno! Nel corso dell'episodio in diretta del 18 aprile, Vladimir Luxuria ha finalmente parlato della controversa squalifica di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi del 2024. Il naufrago ha affermato che non c'è stata alcuna violenza con Artur Dainese e che il programma voleva eliminarlo. Tuttavia, le immagini del litigio non sono state mostrate ai telespettatori, come Benigno sperava, per poter fare chiarezza sulla situazione. Leggendo un comunicato del programma, Luxuria ha spiegato che la squalifica di Benigno è dovuta a certi comportamenti che la produzione ha considerato dannosi per il regolamento che ogni naufrago firma prima di partire per l'Honduras. Un episodio in particolare, cioè la lite con Artur Dainese, ha reso necessario il suo allontanamento. Il programma ha deciso di non mostrare le immagini che hanno portato alla sua esclusione, affermando «abbiamo deciso di non mostrare le immagini per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile». Benigno, d'altra parte, sperava di poter rispondere in diretta e che la produzione mostrasse quanto era accaduto, poiché sostiene di non aver mai alzato le mani su nessuno. Una volta esaminato il comunicato ufficiale del programma, Luxuria ha deciso di esprimere la sua personale opinione sull'evento. La presentatrice ha avuto l'opportunità di vedere le immagini del litigio e ha dichiarato «ho osservato questa scena». Sull'isola ci sono dei litigi, ma non si deve oltrepassare un certo limite. Ritengo che la decisione di non trasmettere queste immagini, che non sono un esempio da seguire, sia un gesto di rispetto nei confronti di voi che ci seguite da casa e anche di Francesco Benigno, che dovrebbe apprezzare il fatto che non le abbiamo mostrate.